Bentornati a Radio Puginon Air, anche oggi non poteva mancare un nostro bel approfondimento e abbiamo scelto di approfondire l'ultimo editoriale di Marco Travaglio dal titolo È qui la festa. Come sempre leggeremo degli estratti da questo editoriale che poi potrete leggere integralmente sul sito del Fatto Quotidiano e li commenteremo, analizzeremo insieme e poi nei commenti dell'episodio aspetto naturalmente di aprire un dibattito insieme a voi su quanto abbiamo ascoltato come sempre anche in questo editoriale, un editoriale però particolare che ci offre uno sguardo approfondito sui festeggiamenti del quindicesimo anniversario del Fatto Quotidiano e su alcune delle questioni dei dibattiti che li accompagneranno per cui questo episodio oltre ad analizzare come sempre un editoriale di Travaglio offrirà anche tutte le notizie necessarie per seguire questi eventi importanti che ci saranno con nomi molto importanti, vedrete. Dunque anche una bella anticipazione su quanto accadrà e sta già accadendo. Allora Marco Travaglio inizia dicendo, scrivendo, oggi parliamo un po' di noi anche se le cronache delle purghe zelenskiane spacciate dai media per rivoluzione, nuova linfa, nuova fase, rimpasto, scossa, mossa, waltzer, squadra più compatta fanno prudere le mani. Il 23 settembre compiremo i nostri primi 15 anni e da oggi a domenica 8 li festeggeremo alla Casa del Jazz di Roma con 14 dibattiti e interviste condotti dai nostri giornalisti e tre serate speciali. Oggi Alessandro Barbero su Guerre e Paci, domani il concerto di Elio e le storie tese, tornati finalmente insieme, tra parentesi c'è ancora qualche biglietto e chi può se lo assicuri subito per evitare domani affollamenti dell'ultimo minuto, chiusa parentesi, domenica una mia chiacchierata semiseria su questi 12 mesi di ballottoliere. Marco Travaglio inizia l'editoriale con un tono autoironico e una critica ai media che secondo lui abbelliscono o distorcono la realtà delle vicende politiche internazionali, in particolare quelle legate all'Ucraina e ad altre aree di conflitto. Con un riferimento al falso ottimismo delle cronache mediatiche, Travaglio ci fa notare che mentre il panorama politico internazionale è descritto dai media come un palcoscenico di cambiamenti e rivoluzioni, il fatto quotidiano si prepara a celebrare i propri 15 anni di attività in modo ben diverso. La celebrazione di questo anniversario non è solo un evento di festa, ma un'opportunità per riflettere e discutere temi rilevanti attraverso un programma denso e variegato. Travaglio ci invita a partecipare alla festa che si svolgerà alla Casa del Jazz di Roma, presentando una serie di dibattiti e interviste che copriranno una vasta gamma di argomenti, dal futuro dell'ambiente alle guerre in corso fino alla politica italiana e internazionale. Scrive Travaglio, ma lo scriveva ieri, si parte oggi alle 17 ricordando Mimmo De Masi, scomparso un anno fa e dibattendo di futuro ambiente con Pasquale De Muro, Giulio Gambino e Cinzia Monteverdi, che presenterà i nuovi corsi della Scuola del Fatto, poi prima di Panatta e Veronesi sul boom del tennis. Non perdetevi il confronto scontro sulla giustizia fra Davigo e Costa, l'esponente di azione che ha subito accettato l'invito in partibus infedelium, tanto di cappello. A proposito di dissensi, domani mattina, dopo il dibattito su autonomia e premierato con Bersani, Viesti e Villone, riavremo il ministro Crosetto, da cui molto ci divide, ma che non si sottrae al confronto con chi la pensa diversamente da lui. L'editoriale descrive con dettagli vividi il programma delle celebrazioni, che non si limitano ad eventi festivi, ma includono discussioni serie e stimolanti su temi di rilevanza attuale. Oggi il Fatto Quotidiano, anzi ieri scusate, il Fatto Quotidiano ha ricordato Mimmo De Masi, un intellettuale scomparso un anno fa attraverso un dibattito sul futuro e sull'ambiente. E questo è un omaggio ad una figura importante e un'occasione per riflettere su temi cruciali per il nostro futuro. E poi tra i momenti salienti della giornata, Travaio sottolinea il confronto tra l'ex magistrato Gerardo Colombo e l'esponente di azione Carlo Costa, che promette di essere un acceso dibattito sulla giustizia. Scusate, Davigo, naturalmente il magistrato Pierluigi Davigo. Questo incontro sarà particolarmente significativo, poiché Costa ha accettato di partecipare nonostante le sue posizioni divergenti rispetto al Fatto Quotidiano. È un chiaro segnale dell'apertura al confronto e del valore che il fatto attribuisce al dialogo costruttivo. Inoltre il programma include anche discussioni su argomenti di grande attualità come l'autonomia regionale e il sistema di governo italiano, con ospiti come Pierluigi Bersani, il professor Giuseppe Viesti e il giurista Giuseppe Villoni. E non mancherà il ministro Guido Crosetto, un altro segnale dell'impegno del fatto per il confronto con rappresentanti di diverse posizioni politiche. Scrive ancora Marco Travaio, nei pomeriggi di domani e dopo domani parleremo delle guerre di Ucraina e Gaza e del futuro dell'Europa e degli USA con i nostri Basile, Di Battista, Lerner, Orsini e tre testimoni d'eccezione Stella Assange, Martina Paesani di MSF, Medici Senza Fontere e Jeffrey Sachs. Sempre domani tornerà Nicola Gratteri, poi Selvaggia Lucarelli intervisterà Paolo Bonolis. Il programma dunque prosegue con discussioni sulle guerre in Ucraina e Gaza, temi che continuano a dominare il dibattito politico e mediatico internazionale. Questi dibattiti vedranno la partecipazione di esperti e testimoni di alto profilo come Stella Assange, Martina Paesani di Medici Senza Frontieri e Jeffrey Sachs, offrendo prospettive diverse e approfondite su questioni complesse e di grande impatto globale. Inoltre l'editoriale menziona il ritorno di Nicola Gratteri, noto magistrato e combattente della legalità, che parteciperà alle celebrazioni con una riflessione sul tema della giustizia e questo segmento promette di essere particolarmente interessante per chi è appassionato di diritto e giustizia. La presenza di Selvaggia Lucarelli e Paolo Bonolis aggiunge un tocco di leggerezza intrattenimento al programma, dimostrando la volontà del fatto di combinare contenuti seri con momenti di sbago e riflessione informale, ma ricordiamo anche che Paolo Bonolis è un personaggio di quelli che ha tante cose da dire ed è anche molto serio, oltre alla sua ironia straordinaria. Leggiamo ancora Marco Travaglio, scrive, domenica ospiteremo il primo faccia a faccia tra Maurizio Landini e il nuovo presidente di Confindustria Emanuele Orsini sul lavoro, salario e impresa. Poi Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, risponderà sulla crisi e sul rilancio dei 5 Stelle. Nel pomeriggio discuteremo di ciò che cambia o dovrebbe cambiare nella tv con Bianca Berlinguer, Corsini, direttore approfondimenti Rai, e Mentana, e delle polemiche sul ritorno del fascismo, con gli storici Canfora e Cardini, il nostro Montanari e Claudia Perina. Poi quattro moschettieri della penna, Feltri, Fini, Padellaro e Valentini, racconteranno gli ultimi 50 anni di giornalismo. Avevamo invitato anche Giorgia Meloni, ma già avevamo ospitato alla Versiliana, l'avevamo già ospitata alla Versiliana, essa era detta disponibile, ma non è riuscita a liberarsi, tra parentesi, o non voleva ingelosire ulteriormente Sallusti, chiusa parentesi. Elislein, abitué della nostra festa, l'avevamo prenotata fin da maggio, ma ora, che è segretaria del PD, ha declinato con motivazioni non troppo convincenti. Peccato, tra parentesi, ma per lei. Dunque, la giornata di domenica è programmata per essere particolarmente ricca e stimolante. Il faccia a faccia tra Maurizio Landini, leader sindacale, e Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, sarà una delle sessioni principali, affrontando temi cruciali come il lavoro, il salario, le dinamiche tra le imprese e il mondo del lavoro. Questo incontro rappresenta un'occasione importante per riflettere sulle sfide economiche e sociali del nostro tempo. Successivamente, Giuseppe Conte risponderà alle domande sulla crisi e il rilancio del Movimento 5 Stelle, offrendo spunti su come il partito intende navigare le acque tempestose della politica italiana, soprattutto parlerà di questa crisi e ne parlerà sicuramente a Versus Beppe Grillo, che in questo caso non ha voce, dunque sarà quella di Conte soltanto. Ci sarebbero dovuti essere entrambe, in questo momento sarebbe stato sicuramente un dibattito più equo, anche perché sappiamo, si è già espresso Marco Travaglio in merito a questa questione, lui naturalmente sta più dalla parte di Conte che di Grillo, quando invece una volta lo ricordiamo al fianco di Grillo. Il pomeriggio di domenica vedrà discussioni su temi caldi come i cambiamenti nella televisione e le polemiche sul ritorno del fascismo, con la partecipazione di esperti e storici. Molto interessante questo tema. La presenza di figure come Bianca Berlinguerra, il direttore Rai Stefano Corsini e il noto giornalista Enrico Mentana arricchirà il dibattito sul futuro dei media. Allo stesso modo i riflettori e le riflessioni andranno sul fascismo e le sue manifestazioni moderne saranno approfondite attraverso gli interventi di storici e commentatori come Canfora e Cardini. Infine, un panel di quattro giornalisti illustri, composto da Vittorio Feltri, Gianfranco Fini, Marco Padellaro e Claudio Valentini, discuterà degli ultimi 50 anni di giornalismo. Questo incontro offrirà una panoramica su come il giornalismo è cambiato nel tempo, evidenziando le sfide e le trasformazioni che hanno caratterizzato la professione. Travaglio conclude l'editoriale con un accenno alle assenze di figure politiche come Giorgia Meloni ed Ellie Schlein. Meloni, già ospite in altre occasioni, non ha potuto partecipare mentre la Schlein, recentemente diventata segretaria del PD, ha declinato l'invito. Travaglio sottolinea come queste assenze, pur essendo un peccato per il programma, dimostrano l'indipendenza e la diversità di prospettiva che caratterizzano la festa del Fatto Quotidiano. In conclusione, l'editoriale di Marco Travaglio non è solo una celebrazione dell'anniversario del Fatto Quotidiano, ma anche una riflessione sui temi di grande rilevanza. La festa non è solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per approfondire discussioni importanti su politica, giustizia, media e storia. Travaglio ci invita a partecipare ad un evento che promette di essere tanto informativo quanto coinvolgente, offrendo spunti di riflessione e dibattiti accesi su questioni cruciali. Grazie per aver ascoltato questa nostra analisi dell'editoriale È qui la festa. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull'evento vi invitiamo a seguire naturalmente il Fatto Quotidiano, a leggere questo editoriale integralmente sul Fatto e a partecipare alle celebrazioni. A presto, ci aggiorniamo anche su quanto accadrà e su quanto diranno questi personaggi che saranno ospiti della festa. Dunque vi aggiorneremo nelle prossime ore su quanto accadrà alla festa del Fatto Quotidiano e tanti auguri appunto a Marco Travaglio e al suo giornale.